musica 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 ho da tempo il sogno di giocare e finalmente eccoci scelta il personaggio ok ok musica 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 c'è una grafica bellissima musica musica montana musica 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 Militanti? È un coltio di te. Il lavoro è suonato, i miei figli. Si hanno iniziato a comprare ogni farm per mille. Poi, la radio stazione. Non più tardi, hanno anche i coppi. Suo suo religione, builto qui, sotto le nostre nasi. Niente che non venne ai aiutare. Il governo non può fare niente. Ci siamo in casa. Ci salviamo i nostri amici, se vuoi essere salvati o non. L'argo non vuoi credere che gruppi come questo existo. L'argo si stara, tío. Niente che voglia di farmi. Niente chiede di usare, Niente chiede di usare, Niente chiede di usare, Niente chiedere di usare. Niente non si può fare niente. Niente che non può fare niente. Seguire il leader. Joseph Seed. L'attacchie di lui, Il Padre. E quelli che fuori dall'esercizio sono sconti. Non credono. Non c'è la fede. Ma io vorrei farlo. Non c'è stato lì in una chiesa, oh! Io non sarò un cristiano dog, però... Cazzo! C'è un po' l'amore! Noi sono i nostri spettatori. A volte... A volte è meglio di lasciare benissimo Si, beh... abbiamo le lezioni per una razza, Sheriff. E Joseph Seed's potete sapere questo. Pratt, open a call with dispatch, informe. Whitehorse, dispatch, over. Ok, no. We're approaching the compound, Nancy. Over. Roger, Sheriff. Is there planning to go through with this? Over. We are. Unfortunately, still trying to talk some sense into our friend the marshal. Over. Hooray. Lucky I'm not there. Get into any trouble, you just let him know. Over. 10-4, over. None. Maybe we should have brought Nancy along with us instead of the probie. These Peggies wouldn't fuck with her. Pratt. Why do you keep calling them Peggies? Project at Eden's Gate. PEG. Peggies is what the locals call them. You know, they started off harmless enough few years back, but now they are armed the T. You know, they're looking for a fight. Are you scared, Sheriff? We're here. Compound's just below. Praticamente, da quanto ho capito, li stanno andando a prendere ai malati. Oh my Jesus. This is a strange idea. Last chance, marshal. We're going in. Set her down. All right, roger that. All right, roger that. Dispatch, you still there? Yes, go ahead, Sheriff. You don't hear from us in 15 minutes. Send in everyone. Call the goddamn National Guard if you have to. Over. Mr. Sheriff. I'll be praying for you. Now listen up. Three rules. Stick close. Keep your guns in your holsters. And let me do the talking. Got it? Got it. Rookie! All right, everyone. Stay sharp. Let's go. All right, everyone. Stay sharp. All right, let's go. Let's go. Stay in the church. Stay close. Eyes open. These folks can spook easily. Rook, I need you. Stay loose, huh? What are they doing? Be calm. Stay calm, everyone. Go about your business. This doesn't concern me. I'm calling in peace in the box. You shouldn't call them like this. Everything's fine, Asi. Everything's just fine. Jesus Christ. You're wearing badges, aren't you? Yeah, but they don't respect badges like in here. They don't respect that I never wear. They don't respect that I never wear. Not every problem can be solved with a ball in caution. Not sure you're going to get. You know, Sheriff, I'm gonna say that I'm surrounded by others. Why are you not surrounded by others? Oh, Marshall. Let me do this. We do it in my way. Quietly. Calmly. You got it? Fine. Hudson on the door, watch our backs. Don't let any of these people get in. Rookie? On me. I'm calling Rookie? E tu? Ok. Certo. Non faccio qualcosa stupido. Calma, Sheriff. Siamo arrivati a prendere il tuo nome. Tu sarai bene. C'è qualcosa che sta arrivando. Tu puoi sentire, non? Certo. Siamo arrivati al lato. E c'è una riccazione. E' perciò che abbiamo iniziato il progetto. Perché sappiamo cosa succede dopo. Ci saranno. Ci saranno a cercare di noi. 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 Non ci saranno. Sheriff, vai. Non ci saranno la loro grida. O la loro immorale o la loro depravità. Ci saranno più di noi. Sheriff. Non ci saranno più di sofferenza. Non ci saranno più. Joseph C. Ho una scuola che ha usato per il tuo arresto. E' un'attività di scuola e di finire il gioco qui. Che palle! Tutti questi ingeri di parole. Cioè, se ti sei circondato da persona armata. Dammery lo spari, lo ammazzi. Muori con dignità però. Here they are. Locusti in our garden. Eh, figuraci. See? They've come from me. They've come to take me away from you. They've come to destroy all that we built. They're so good. Hold on, and don't stand there! Stand now! Everyone calm down! They're all right. Relaxed. I'm not sure when they talk about this. I knew this moment would come. And we've prepared for it. Go. Go. No. Dio non lo farà prenderemo. C'è qualcosa in mezzo in mezzo. Nell'ultima scelta, e ho sentito, come fosse, il ruolo di fiume, quando gli uomini dicono «Vi e vedi!» E ho visto. E guarda, è stato un cavallo bianco e il giro che si seguì con lui Rookie, scuola questo figlio di b***o è vero? 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 a volte la cosa migliore da fare è andare fuori andiamo non vale un c***o però quello che voglio dire io è che rispetto agli altri cattivi di Far Cry prendi i vassi non ti vengono 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 è un c***o questa rispetto a loro è un c***o questo è un c***o l'ho detto, l'ho detto ehi? grande, grande che c'è un tipo poi, bella scuola dei c***o che mettete a fare tutti da l'anti io sono un marshal federal io vi consiglio di restare i vengono 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 oltre i vengono aiaiaiai si è fatto malissimo il chido a lui anche niente lo conosco il chido per l'erfale beh 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 non un brutto devo smettere di paragonarle al chiarzo al quarto perché le farebbe catare però visto oggettivamente al carino e signori le cuffie si si ci sono ah siamo sotto solo ok ok mi sta già sulle palle se un basso monti negra e pagano meno mi stavano simpatici i told you god wouldn't let you take me please i need to know what's going on disfaccio oh my god everything is just fine here i don't need to call anymore yes father praise be to you no one is coming to save 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 you everything is unfolding according to god's plan god's plan i am still here with you the first seal has been broken the collapse has begun and we will take what we need and we will preserve what we have and we will kill all those who stand in our way and these the homagers of you will see the truth you gotta get out of here we will beあなた of my understanding god come on 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 ah come on come on come on we'll we're un panico non è scolta dai non è scolta e ci hai fatto inizierà a fare qualcosa salto salto non è forte però dai corri un po' lentino dove va? la segnata? mi ricordo un sacco l'intro di di fare 3 no? non mi pare che paga min non paga min spara al fratello e poi ti fa ok 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 spara al fratello prendo il fratello ok devo tenere il primo ok ok questo è il calcio ok 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 è lì c'è un'arma qui? c'è un'arma qui? entro? io sì? sì c'è nessuno un po' giù agli angoli no no andiamo che male ma quanto era alto? no no non so dove devo andare adesso non so dove devo andare adesso no questa non ci si calza e penso di qua devo andare più in possibile comunque uuuuuh un coltellino non un coltellino per un cazzo dove si cambia armi? vuoi iniziare a sparare però se inizi a sparare adesso mi trovano vogliamo che mi trovano vero? oh oh cos'è? un uccello? sì la mazza non mi manda bigani però non mi mando non mi manda bigani un coltellino non mi aless given la mia o un coltellino non le hai filt несi Io ancora non sempre sboccerò il baseball. No, continuo ad abbassarmi con un posto sbagliato. Eh, rifugamolo. Ma non ce l'ho rifug... Sì, sì, ti sento. La scivolata classica. Non vorrei che ci fosse qualcuno, però. Non è detto che l'abbè liberata. Cos'è questo? Inizioni. Inizioni, inizioni, via tutto. Sì, sì, sì. Inizioni. Inizioni. Ah! Oh! 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 Jesus Christ! Rook! Scusate, ho pensato che ti avessero Vieni, vieni Vieni, controlla la ruota, Rook Oh, Gesù Non avevo idea F*** Siamo mettendo la famiglia di tutto Alla loro F*** Littime Siamo arrivati da questo, Rooki La prima cosa è che abbiamo sottolineato Siamo sottolineati Ok, qui ci faremo Ci una strada qui Ci prendiamo e si è andata in l'esterno Probabilmente solo un po' di volte a Missoula e poi torneremo qui con una guardia nazionale e prenderemo il resto di questi... ok, shhh ma cazzo, ma si è già morto, non perdono eh, come un figlio adesso perchè la devi bruciare? aspetta lino non è morto, ma cazzo li ha capito è vero e' un'altra cosa e' un'altra cosa Oh no, oh no, hanno bloccato le ruote! Come on, behind us look the case is dynamite, in the back of the truck use it hurry, I'll take him out yeah that's it light him up bro, throw him to hell Right, damn it eh tutti guidando tutti ma da dove? ma sei infazzito e io come lo cazzo ho una pistolina grazie con il polso sì e poi dando il bomba ma figlio spara le ruote ma sei che infazzito che fai Non c'è il mondo? Madonna, non c'è il luogo? Oh... grazie no! get off me! I am a United States Federal Marshal take it to the Pilgrim keep searching my children we must give thanks to God the day I have prophesied to you has arrived Tutto che ho detto, ha dovuto essere reale. La regolazione che cercano di me prendere da te, ora sono in un'unico, un'unico, un'unico e un'unico. Siamo segnale. ... ... ... ... Bracadilla Bracadilla You are my children And together We will march to it You know what that shit means ...all been closed. Significa che le line phone's been cut. Significa che non ci sono signali che in e in e out of this valley. Ma in grado, significa che siamo tutti f***ati. Goddamn collapse. E tutti pensano che il mondo è venuto a un'endola ora. Ci sono aspettati per anni. Per anni. Ascettati per qualcuno che venire e rilassare la propria propria. E rilassare la sua guerra di Dio. La guerra di Dio. Beh, tu ti è assiccato. The smartest thing for me to do Would just be to hand you over Fuck Oh! Una picca! Interessante, interessante Ah, pensavo me la Me la regalasse invece Che sgardo E niente, questi erano Questi erano i primi La prima mezz'oretta su Su Fracca 5 E potrebbe diventare anche Una piccola serie, no? Un walkthrough Vedremo, vedremo